Makino Tsukushi è una comunissima ragazza giapponese di modesta famiglia. Anzi, per la verità, la sua famiglia è ben più povera della media. Tuttavia, per volere dei genitori che si indebitano fino al collo, si ritrova a frequentare l'istituto privato per ricconi, la Eitoku. I genitori opportunisti sperano infatti che la ragazza faccia un buon matrimonio e risollevi così le sorti della famiglia. Ma in questa scuola ci sono quattro ragazzi, gli F4, ricchissimi rampolli che erediteranno grossi imperi commerciali che spadroneggiano. Sono Mimasaka Akira, Nishikado Sojiro, Ana Zawarui e il capo, Domeo Jitsukasa. Tutti li temono, anche i professori. Chi si mette contro di loro viene bullizzato da tutti gli altri studenti e costretto a lasciare la scuola. La cosa peggiore che possa capitare a uno studente è ricevere il cartellino rosso dagli F4, una volta ricevuto per il malcapitato e la fine. Machino, avendo capito l'andazzo, cerca di tenere un profilo basso, sperando che i tre anni di scuola superiore trascorrano in fretta. Tuttavia si sente un po' in colpa per il fatto di non riuscire a reagire a quella situazione. L'unico suo momento di libertà è andare fuori sulla scala antincendio e urlare il suo disprezzo per gli F4. Lì però a dormire c'è Ana Zawarui, uno dei componenti degli F4 che sembra essere diverso dagli altri. Machino così inevitabilmente si innamora di Rui. Un giorno un'amica di Machino Tsukushi cade accidentalmente dalle scale e finisce addosso a Domeo Jitsukasa, lo spietato leader degli F4. Ad affrontare Domeoji è proprio Machino, che da quel giorno comincerà a subirne di tutti i colori proprio per ordine di Domeoji. La ragazza infatti sta quasi per subire un abuso da quattro studenti brutti ceffi mandati da Domeoji per spaventarla e verrà salvata per fortuna proprio da Rui. Machino però ha fatto colpo senza saperlo proprio su Domeoji, colpito dal suo caratterino. E un giorno lo stesso Domeoji la fa rapire e la ragazza si ritrova così a casa del ricco Rampollo. Machino subisce un vero e proprio trattamento di bellezza, perché Domeoji vuole farle la concessione di diventare la sua ragazza. Machino, dopo aver mandato a quel paese Domeoji, che resta di sasso, tenta di riprendere la sua normale vita a scuola. Fortunatamente arriverà all'Aitoku un suo amico di infanzia, Kazuya, che però sarà preso di mira insieme a lei dai bulli che prendono ordini da Domeoji. Intanto da Parigi torna niente meno che Shizuka Todo, bellissima ragazza che è il primo amore di Anasawa Rui. Shizuka, pur essendo molto ricca, si rivelerà essere anche molto umile e diventerà buona amica di Machino, della quale prenderà le difese. Machino riceverà anche l'invito ad una festa da parte di Shizuka, festa alla quale accidentalmente darà il suo primo bacio a Domeoji. Domeoji fraintende completamente e crede a quel punto di piacere a Machino. Quando però scopre che la ragazza è invece innamorata di Rui, va su tutte le furie e tenta di farle violenza, in una delle scene probabilmente più drammatiche dell'intero manga. Domeoji, vedendo le lacrime della ragazza, si fermerà e prometterà che mai più le farà del male. Quando Shizuka Todo deciderà di rinunciare al nome di famiglia e di partire per sempre per la Francia per diventare avvocato, Anasawa Rui la seguirà e a quel punto Machino dovrà dire addio al suo primo amore. Machino comincia così inspiegabilmente ad avvicinarsi a Domeoji, in qualche modo sente di essere attratta da quel tipaccio e non riesce a mettere in chiaro le cose con lui. Domeoji così continua a fraintendere e a pensare che prima o poi Machino cederà le sue avance. In tutto questo si inserisce la figura della perfida Sakurako, che, innamorata di Domeoji, tende un tranello a Machino. Una sera Machino viene invitata in discoteca da alcune finte amiche e le viene offerto un drink con un sonnifero. La ragazza così si risveglia il giorno dopo in una camera d'albergo, convinta di essere andata a letto con un perfetto sconosciuto. Nel frattempo qualcuno ha fatto delle foto osè e con quelle ha tappezzato tutta la scuola. Machino viene presa nuovamente di mira dagli studenti, che la legano addirittura a una macchina trascinandola e provocandole delle brutte ferite. Per fortuna Domeoji arriverà di nuovo a salvarla, capendo che dietro il complotto c'è Sakurako. Domeoji porta Machino a casa sua e qui, dopo averle curato le ferite, la bacerà appassionatamente. Machino non rifiuta quel bacio e comincia così ad avvicinarsi davvero a Domeoji. Ma nel frattempo Rui fa ritorno dalla Francia, poiché lui e Shizuka si sono lasciati. Rui, ancora in preda alla disperazione, bacerà Machino per consolarsi e Machino ricambierà il suo bacio appassionato. Verranno colti in flagrante proprio da Domeoji, che a quel punto farà di tutto per fare spellere i due dalla scuola. Per fortuna l'arrivo di Tsubaki, sorella di Domeoji, ripianerà la situazione. Ana Zawa Rui e Machino Tsukushi così non verranno espulsi. Intanto però Machino si sente in colpa per aver tradito Domeoji e in lei cresce la consapevolezza che il ragazzo le piace davvero. E questo avviene anche dopo il fallimentare appuntamento con Ana Zawa Rui, che peraltro la sorprende pure seduta sul water in una delle scene più esilaranti di sempre. Intanto Machino ha deciso che non vuole più avere nulla a che fare con gli F4 e si imbatte così in Senosuke Amakusa, un ragazzo in apparenza normalissimo e che conduce una vita modesta, ma che in realtà è pure lui un riccone, figlio di un noto politico. Puntualmente Amakusa si innamora di Machino, dichiarando apertamente il suo amore durante la sua festa di compleanno alla presenza dei personaggi più influenti del paese. Domeoji, che non ha mai dimenticato Machino, va nuovamente su tutte le furie prendendo a pugni Amakusa. Intanto la famiglia di Machino rischia di andare sull'astrico perché suo padre si è giocato non so quanti soldi alle corse dei cavalli e Machino, disperata, si reca da Domeoji per chiedere un prestito. Prestito che Domeoji concede coinvolgendo nel frattempo Machino nel concorso Teen of Japan, volto a decretare la teenager più bella, brava e acculturata del Giappone. Machino sorprendentemente conquista un secondo posto per la gioia di tutti. Gli F4 insieme a Machino, Ayuki, migliore amica di Machino e altre ragazze della Eitoku partono per la montagna e Machino si perde in mezzo alla tormenta. Verrà salvata da Domeoji e i due dovranno rifugiarsi tutta la notte in un capanno avvinghiandosi per farsi calore. Alla scuola Eitoku intanto entra in scena un altro strano personaggio, Junpei, che stringe amicizia con Machino. In realtà lo scopo di Junpei è solo uno, rapire Machino e usarla come esca per attirare Domeoji in trappola e riempirlo di botte insieme ad altri complici. Tutti infatti hanno dei conti in sospeso con Domeoji. E così Machino viene rapita, rinchiusa in un magazzino e Domeoji corre a salvarla senza pensarci due volte, incassando in silenzio tutti i violenti colpi senza reagire e quasi rimettendoci la pelle. L'autrice Yoko Kamio ha dichiarato che in questo modo ha voluto far patire a Domeoji tutto quello che lui aveva fatto subire alle sue vittime. Machino comprende così quanto Domeoji tenga a lei anche se non riesce ancora a lasciarsi andare. E intanto arriva il compiano del ragazzo e in quella occasione la madre di Domeoji, la signora Kaede, apprende che suo figlio, che erediterà tutte le fortune dei Domeoji, si è innamorato di una ragazza squattrinata e di modesta famiglia. Tragedia! E allora mette in atto il suo diabolico piano, confezionando per il figlio un matrimonio combinato con Shigeru Okawara, ovviamente un matrimonio di interesse, visto che Shigeru è figlia di un noto imprenditore. Shigeru finirà davvero per innamorarsi di Domeoji e stringerà anche amicizia con Machino, perché in fondo è una brava ragazza, che proprio perché è vissuta sempre in un mondo ovattato, non ha mai avuto dei veri amici. Machino così decide di allontanarsi da Domeoji, il quale all'inizio sembra voler far funzionare le cose con Shigeru. Durante una gita alle terme, i due vengono perfino sorpresi da Machino in posizione compromettente, ma in realtà era solo Shigeru che era saltata addosso a Domeoji che l'aveva rifiutata. Di lì a poco Domeoji infatti lascerà Shigeru, ammettendo di amare solo Machino. Intanto la famiglia di Machino è di nuovo sull'astrico e decide di trasferirsi in un villaggio di pescatori lasciando la loro figlia a Tokyo a finire le scuole. Machino, rimasta senza un soldo, finirà per essere ospitata da Tsubaki e si ritroverà dunque di nuovo a casa Domeoji. Ma siccome vuole guadagnarsi vitto e alloggio, viene assunta come cameriera personale di Domeoji. Seguono così altre situazioni esilaranti, ma anche molto romantiche. Domeoji si dichiara a lei per l'ennesima volta e i due si ritrovano avvinghiati l'uno all'altra. Domeoji le regala un ciondolo a forma di Saturno che diverrà per la ragazza il suo oggetto più prezioso. Machino poi accetta la proposta di diventare per due mesi la ragazza di Domeoji, una sorta di prova del fuoco insomma. In questo contesto si inserisce anche la storia personale di Yuki, migliore amica di Machino, che riceve una cociente delusione d'amore a causa di un poco di buono e riacquisterà fiducia in se stessa grazie a Nishikado Sojiro, che le farà capire che non deve buttarsi via per uno qualunque. I due stringeranno una bella amicizia destinata a durare e ad avere ulteriori sviluppi. Machino comincia a frequentare Domeoji come suo ragazzo, ma la signora Kaede non demorde e per far sì che i due si lascino colpisce i migliori amici di Machino, Kazuya e Yuki, facendo in un attimo tracollare le finanze delle rispettive famiglie. Appresa la notizia, Machino si fionda dalla Kaede e dopo averla pesantemente insultata decide di lasciare Domeoji e trasferirsi al villaggio di pescatori con la sua famiglia, senza dire nulla a nessuno. Viene ritrovata da Anazawa Rui, che casualmente vede Machino in tv durante un documentario girato in quel villaggio. E così Rui e Domeoji vanno a riprenderla. A Tokyo ci sono gli amici che attendono Machino. Shigeru, che si rivelerà essere un'ottima amica, mette a disposizione di Machino un suo appartamento e la vita così riprende tranquilla. Ma la madre di Domeoji non demorde e assolda perfino un sosia di suo figlio per sedurre Machino, un universitario di nome Amon, con il quale la ragazza a un certo punto pensa davvero di poter avere una storia. Ma il suo amore per Domeoji è ancora troppo forte. Machino e Domeoji si rimettono insieme, ma a quel punto la signora Kaede ricatta ancora suo figlio, che così parte per New York improvvisamente, lasciando Machino senza alcuna spiegazione. Machino lo insegue a New York, ma Domeoji la caccia via in malo modo. Ana Zawarui la insegue per consolarla e in quel momento proprio Rui confessa a Machino di amarla. Ma per loro ormai è troppo tardi. Machino si è già lasciata alle spalle il suo primo amore, anche se ha profondo rispetto per i sentimenti di Rui. Intanto per un caso fortuito, proprio grazie all'intervento di Machino, la signora Kaede riesce a concludere un importante affare a New York e così la perfida donna concede a Machino e Domeoji di rivedersi ancora un'ultima volta. Machino riparte per Tokyo e il giorno successivo Domeoji la raggiunge per quello che dovrebbe essere il loro ultimo appuntamento. Tutti gli amici escogitano così un piano per far restare soli Machino e Domeoji. Li fanno rapire, trasportare su un'isola deserta o quasi, e qui i ragazzi si ritrovano ancora una volta a scambiarsi appassionate fusioni. Di ritorno a Tokyo, Machino e Domeoji trovano ad attendergli una folla di giornalisti. In quegli attimi concitati, un misterioso aggressore accoltella Domeoji per poi fuggire via. Il ragazzo viene portato di corsa all'ospedale e lotta tra la vita e la morte. Si scoprirà che l'aggressore voleva vendicarsi visto che era il presidente di una compagnia sopraffatta dal gruppo Domeoji. Per fortuna Domeoji si riprende e proprio in quel momento la signora Kaede assume la decisione di consentire a suo figlio di poter fare le sue scelte in autonomia, a patto però che si laurei e metta la testa a posto, prendendo in mano le redini degli affari. Domeoji risvegliatosi dall'operazione ha perso temporaneamente i ricordi più recenti. Di Machino non si ricorda più e una gatta morta di turno, Umi, cerca di intromettersi tra loro. Per fortuna l'amnesia non durerà molto e una volta riacquistati i ricordi, Machino e Domeoji possono frequentarsi liberamente. Intanto l'amicizia tra Yuki e Nishikado si è consolidata. Yuki si era dichiarata al ragazzo che sotto la maschera del donnaiolo incallito nasconde un cuore tenero e dolce. Nishikado aveva avuto anche un primo amore, Sara, ma i due non erano mai riusciti a dichiararsi. Yuki riuscirà a far superare a Nishikado il senso di colpa per il suo passato e i due finiranno a letto insieme. Yuki dona così la sua verginità a Nishikado per poi scoprirsi più donna e più sicura di sé. Sulla loro storia cala così il sipario. Si avvicina il giorno del diploma degli F4 ma anche la partenza di Domeoji per New York. Machino e Domeoji dovranno separarsi per quattro anni, il tempo in cui Domeoji frequenterà l'università. Domeoji fa la proposta di matrimonio a Machino che però non se la sente di seguirlo subito e promette che lo aspetterà. I due ragazzi, in una romantica notte trascorsa in un resort di proprietà dei Domeoji, stanno quasi per farlo, ma niente. A Machino viene la febbre e i due si fermano. Nel giorno della festa del diploma avviene la solita disavventura per Machino che rovina accidentalmente il vestito da ballo e si presenta in abiti comuni alla festa. E qui, tra ricordi e commozione, si congeda da Domeoji e dagli F4 promettendo a sé stessa che affronterà la vita con forza e determinazione perché in fondo lei è Machino Tsukushi, l'erba cattiva. Ai 48 volumi seguì anche un volume speciale con storie ambientate un anno dopo i fatti del manga. Anche Machino si è diplomata e frequenterà l'università Etoku pagata da Domeoji. Vediamo un Domeoji super impegnato sul lavoro e il loro rapporto sembra un pochino raffreddarsi. I due si rivedranno a Parigi al matrimonio di Shizuka che sposerà un collega avvocato francese e si prometteranno ancora amore eterno. Tornato a Tokyo, Machino ha un incidente sul lavoro. Cade dalle scale mentre fa le pulizie e Rui corre al suo capezzale. Poco dopo arriva preoccupato anche Domeoji. Quest'ultima storia ci regala infatti un focus su Anazawa Rui che si dimostra ancora innamorato di Machino e si chiede se un giorno riuscirà a innamorarsi di nuovo. Tuttavia Anazawa Rui ha capito che il suo ruolo per ora è quello di vegliare sui suoi due migliori amici Machino e Domeoji. Sul finale Rui dà appuntamento sulla torre di Pisa sia a Machino che a Domeoji per farli incontrare e regalare loro un momento romantico. E qui infatti Domeoji donerà a Machino un anello di fidanzamento che la ragazza accetterà a sigillo del loro patto d'amore. Dunque nessun matrimonio tra Machino e Domeoji ci viene mostrato nel manga a differenza invece di ben due live action quello giapponese e quello cinese che ci mostrano la loro festa di matrimonio. Pare che l'autrice non si senta ancora pronta per scrivere questa storia e forse non lo sarà mai anche se recentemente sul suo canale YouTube in uno dei suoi video ha mostrato un suo disegno che ritrae Machino e Domeoji durante il loro matrimonio con la scritta One Day Arriverà mai questo giorno? Chissà!